Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Monster07, siamo qui ragazzi per parlare un po' del Gran Premio che verrà, come faccio sempre una sorta di, diciamo, riepilogo delle scorse gare, dove dico comunque le sensazioni che ho per la prossima gara, la mia prediction per la prossima gara e di ciò che si può parlare fino a, insomma, di tutto quel che comprende la Formula 1 ragazzi. Allora, si affaccia, dopo due settimane di distanza del Gran Premio di Francia, si affaccia adesso il Gran Premio di Francia, non si è disputato lo scorso anno, però si è disputato nelle sessioni del 2018 e del 2019, in entrambe le occasioni ha vinto Hamilton, con la Mercedes che si conferma, diciamo, insomma, un punto di forza per questo, diciamo, questo circuito è una sorta di punto di forza della Mercedes. Vedremo quest'anno, però, insomma, la sensazione rimane sempre quella lì, nelle ultime due gare la Mercedes, udite udite, ha fatto solamente 6 punti, una cosa veramente incredibile, in due gare per la Mercedes fare 6 punti, non era mai successo nell'era turbo ibrido, che per due gare consecutiva la Mercedes fa 6 punti. Quindi, anche per questo, nelle prossime gare prevedo, insomma, un Hamilton e una Mercedes anche in generale alla riscossa. Ora c'è Francia, c'è il Gran Premio, l'altro Gran Premio d'Italia lì, no, no, che Gran Premio d'Italia? Allora, ridosso, bel giorno, quindi per Stappen lì, magari sarà un po' ingacchiato, e poi c'è l'Italia. Allora, diciamo che non siamo neanche a metà stagione, sono passate appena 6 gare, però possiamo, diciamo, incominciare a trarre qualche prima conclusione. Innanzitutto il Mondiale, comunque, dove, come era previsto, era un Mondiale abbastanza spettacolare rispetto a quello degli ultimi due anni. Perché dico questo? Perché, insomma, il divario tra tutte le macchine, diciamo che, è diminuito, e quindi conta leggermente più rispetto agli scorsiani il pilota, rispetto a quanto potesse contare effettivamente la macchina. Dunque, non credo che sia proprio iper spettacolare, nel senso che non ci sono dieci piloti a combattersi il primo agosto, però comunque ce ne sono due. Mentre se andiamo a vedere gli scorsi tre anni, ce n'è stato solamente uno, ragazzi, perché 2019, l'ho dominato Hamilton dell'inizio alla fine, praticamente. 2020 è andato uguale, dove comunque Bottas non è andato neanche chissà che filo da torcere. Hamilton, in tutti gli anni in cui ha vinto il Mondiale, non ha vinto la prima gara. Quest'anno ha vinto la prima gara, beh, chissà che non possa non vincere il Mondiale, anche perché ha fatto sei punti in due gare, e Hamilton è stato anche fortunato, come spesso lo è lui, nel combattersi con Verstappen, che Verstappen è stato ucciso dalle gomme, perché sennò Verstappen poteva allungare gli altri sette punti sul britannico. Anche più di sette punti, perché alla fine Perez poteva semplicemente, secondo me, anche tenersi dietro Hamilton quella gara. Se Hamilton e Verstappen non facevano gli arachiri tra di loro. Allora, innanzitutto il Mondiale è anche più imprevedibile. Perché dico questo? Perché solamente una volta, in sei Gran Premi, ovvero in Spagna, il pilota che ha fatto la pole ha anche vinto la gara. Sicuramente è un dato che dà grande fascino, perché se andiamo a vedere in Bahrain, tra l'altro c'è sempre stato il contrario tra Verstappen ed Hamilton, perché se andiamo a vedere in Bahrain, pole di Verstappen e vittoria di Hamilton, e nell'Emilia Romagna è il contrario, ad Imola. Nell'Emilia Romagna comunque lì diciamo che Hamilton 18 punti se li è presi così, perché, insomma, Hamilton è stato molto fortunato dalla safety car, proprio quando Bottas era la sera hanno fatto il botto. E quindi è andata così. Poi in Portogallo, vabbè, Bottas era un fuoco di paglia che ha fatto la pole, e poi addio, solamente terzo. In Spagna, poi le vittorie di Hamilton, appunto, e poi le due pole di Leclerc, che comunque non si è andata a buon fine, visto le successive vittorie della Red Bull, ragazzi. Quindi, insomma, la Red Bull sicuramente ha fatto un ottimo lavoro, però la Ferrania non è una pista da gara. Poi non metto in dubbio che se Leclerc fosse partita in pole a Monaco, sicuramente si sarebbe giocato la sua parte per la vittoria, anche perché alla fine a Monaco è come se la pole ha fatto la Verstappen, perché se tu dici vince chi parte in pole, ecco, la gara Leclerc non è partita, quindi la pole è come se fosse stata di Verstappen. Però, insomma, se togliamo quella, quattro gare su sei dove non vince che partita in pole, è una cosa che comunque dà spettacolo. Abbiamo dei duelli accesi, abbiamo un duello molto aperto per la quarta posizione in campionato, perché per me la terza è di Bottas, nonostante Bottas è sesto, per me la terza posizione è a mani basse di Bottas, secondo me. E questo è quanto. Per me la terza posizione è già di Bottas. Forse che la può togliere solamente Perez, ma dubito. E' vero che Perez per il momento quanto ha di vantaggio? Ha 22 punti di vantaggio Perez, che brutto numero. Però non credo che alla fine possa reggere comunque con una Mercedes, che comunque Bottas è lì da tanti anni, specialmente le ultime gare, secondo me le ultime 3-4 gare Bottas farà bene, perché ormai io lo do per scontato che non la prossima andrà a Russell. Non puoi un pilota con dal talento così puro e cristallino rimanerlo quattro anni in Williams. Non esiste proprio per me. Russell deve fare il definitivo salto di qualità, perché Russell secondo me già quest'anno incomincia a fare i primi punti. Me lo dico io. Quest'anno Russell incomincia a fare i primi punti. E' anche un modello interessante perché se andiamo a vedere i contratti, perché Perez, Giovinazzi, Raikkonen si giocano il rinnovo, anche se Raikkonen probabilmente si ritirerà. Però Perez e Giovinazzi si giocano il rinnovo, perché Illoth ragazzi per l'Alfa Romeo è alla porta, così come tanti altri piloti, magari un ritorno di Hülkenberg, chi lo sa. Quindi insomma ci sono tanti piloti alla finestra a tendere. C'è anche un mondiale di Formula 2 molto interessante, quindi insomma vedremo un po', perché l'Alfa Romeo sicuramente avrà tante opzioni valide da mattia. Se lo stesso Bottas, perché Bottas dopo cinque anni Mercedes non penso vada in Williams. Bottas vedremo se se lo prenderà magari, che ne so, una Renault, per dirne una, perché magari l'Alpine, scusate, perché magari Alonso non vorrà più stare, che ne so, magari avrà fatto solamente un anno e vaffanculo. Però Alonso quest'anno l'hanno preso insomma per panarsi il culo sull'addio di Ricciardo, anche se sinceramente avrei ripuntato su Hülkenberg più giovane e secondo me anche più pronto. Poi Alonso non metto in dubbio che ha fatto una super prestazione in Azerbaijan, però tutto sommato secondo me non si poteva, è giusto anche dare una scienza ad Alonso, però insomma secondo me si poteva mettere di meglio a quel posto. Bottas e Rastri comunque una situazione molto interessante, Bottas ora o fa 4, 5, 6, 7 vittorie di fila o non lo so, perché anche se fa 5 vittorie di fila Hamilton arriva secondo, gli ha rifilato solamente 7 per 5, 35, gli ha rifilato 35 punti, sarebbe a 7,82, sarebbe ancora 20 punti dietro a Hamilton, se fa 5 vittorie ed Hamilton arriva sul podio. Per farvi capire insomma, Bottas ormai ha fatto un danno abnorme, due ritiri che comunque non sono neanche colpa sua, però la goccia che fa traboccare il vaso è il dodicesimo posto in Azerbaijan e le altre tre gare, sono tre gare su tre dove arriva tutte e tre, tutte e tre di tre Hamilton e tutte e tre dietro Verstappen, quindi insomma un due domande qualcuno se le fa insomma. Vettel con la Storm Martin vedo che ha preso fiducia, una volta che ha preso fiducia secondo me farà delle prestazioni molto molto buone, vedremo se sarà a livello di McLaren e Ferrari, che ormai hanno un distacco sicuramente molto importante sulle altre, perché se andiamo a vedere la classifica, Ferrari e McLaren si giocano in terzo posto, perché la Ferrari ha 94 punti e la McLaren ne ha 92, però andando a vedere la fine della fiera, ragazzi andiamo a vedere dietro, c'è l'Alfa Tauri a 39, quindi sono 43 punti di distacco dalla Ferrari, poi c'è l'Aston Martin a 37 e l'Alpine a 25, l'Alpine che sembrava favorita su Aston Martin e Alfa Tauri invece. Alla fine secondo me, dico la verità, la spunterà l'Alpine per il sesto posto e l'Aston Martin secondo me crawlerà, perché l'Aston Martin rispetto ad Alfa Tauri, Alpine la vedo molto più concentrata sul 2022, quindi sugli anni che verranno rispetto a quest'anno. Secondo me quest'anno una tra Alpine e Alfa Tauri arriverà a quinta, spero l'Alfa Tauri in quanto italiano, però insomma simpatizzo molto con, lo dico, così come Gasly. L'Alfa Romeo sicuramente è più competitivo rispetto allo scorso anno, però ha ancora qualcosina di decimi in meno rispetto ad Alpine, Aston Martin e Alfa Tauri. Aveva fatto un mezzo miracolo a Giovinazzi a Monaco, dove poteva essere ottavo, però col gioco di pit stop Oconi gli è andato davanti, perché sennò secondo me Giovinazzi con la gara avrebbe potuto fare tranquillamente un ottimo posto. Purtroppo è andato a decimo, è andato così. Rai Conan ha fatto un buon punto in Azzerbaigian, e si sono tenuti dietro a Bottas tutta la gara all'Alfa Romeo, quindi comunque non è poco, credevo fosse più facile in realtà superare l'Azerbaigian, perché Hamilton, Verstappen e Perez sono divorati le Glerk, invece il resto della griglia, e questo veramente non lo capisco. Insomma, vedremo Alonso cosa farà, vedremo quello che verrà. Mia prediction per la Francia, io dico che sei punti in due gare per la Mercedes, sono veramente pochi, se non ci sarà doppietta ci saranno due piloti sul podio, quindi io prevedo Hamilton, Bottas e Verstappen, che tornerà quindi il podio classico degli ultimi due anni, perché siamo sempre loro sul podio. Hamilton, Bottas e Verstappen, mi aspetto una McCaren più competitiva rispetto alla Ferrari, poi vedremo se la Ferrari estrarà fuori il corino dal cilindro. Certo è che le Glerk è l'unico dei primi nove piloti in classifica, cioè in classifica dei primi nove piloti, le Glerk è l'unico che non è mai salito sul podio, eppure le Glerk è quinto in questa classifica. Quindi insomma, ha 14 punti da recuperare su Norris, vedremo se ce la farà, però certo è che mettetemi il gran primo di Monaco, e le Glerk è davanti a Norris, anni luce per me. Poi vabbè, è stato anche sfortunato le Glerk in Emilia Romagna, ora non stiamo a contare le sfortune, però la Galazzi e le Glerk, noto di fatto che in Emilia Romagna è stato sfortunatissimo, perché era secondo, e poi è arrivata la safety car, e anche il team rider sulle ripartenze, perché sennò le Glerk poteva superare Verstappen, e magari si poteva anche vincere la gara. A Monaco si poteva vincere, in Azerbaijan è stato un po' stupidino lui, però con il gioco di pit stop è finito dietro a Vetter e Gasly, perché se non era così stupido, non dico stupido, perché così sembra che lo stiamo insultando, però non ha avuto forse la lucidità di gestire le gomme all'inizio, e quindi se lo sono divorati, vuole essere troppo ingolosito da essere davanti a Hamilton e Verstappen, invece così gestiva normalmente le gomme, magari gli faceva passare, perché altro non poteva fare, invece ha forzato troppo, e quindi è finito dietro Gasly e Vetter, anche con il gioco delle strategie, non metto in dubbio. Quindi questo è quanto ragazzi, io ho fatto le mie pericredition, ho detto quello che volevo, il video ragazzi termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se ti è piaciuto un video lasciate un mi piace, se al contrario un dislike, commenta se siete d'accordo, se siete d'accordo con me, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per i secondi su Instagram, da MoniSport 07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!